Perché è insostituibile anche in questa nuova era di contatti digitali moltiplicati un evento come Made in Steel? Così lo spiega il direttore commerciale di Acciaierie Venete, uno dei grandi player che prenderà parte come espositore alla non edizione della Conference and Exhibition a marzo a Fiera Milano Raw e presenza abituale alla manifestazione. Non riesco a non considerare la possibilità di contatti così multiformi, così vari e così incessanti come quelli che si ottengono e che caratterizzano una fiera come un presupposto importante per supportare bene il business nostro. È vero che oggi abbiamo fortunatamente un sacco di strumenti molto più moderni e molto più semplici se vuoi da gestire e maneggiare. Questo non vuol dire secondo me che possiamo pensare anche solamente pensare di abbandonare tutto quello che è il rapporto che si crea e che viene coltivato in un ambiente come quello di una fiera. Occasioni di contatti e confronti non programmate e non pianificabili, questo l'ulteriore valore aggiunto di un evento come Made in Steel. Opportunità potenziate dalla sua doppia anima di exhibition e di conference e nel 2019 Acceierie Venet aveva scelto di presentare proprio a Made in Steel il nuovo laminatoio 4.0 realizzato a Padova. Oltre a essere un exhibit propriamente detto diventa anche davvero un'arena di confronto e di raccolta di informazioni e di contatti, molto più di una fiera classica come può essere Wire. Siccome su Wire ci sono molte incertezze ancora, da questo punto di vista l'edizione, la prossima edizione di Made in Steel acquisisce ancora più importanza diciamo, cioè supera ancora quella che è la sua tradizionale fetta di utenti e dovrebbe ulteriormente allargarlo.